Torna a Trieste la campagna di ABCI, associazione per i bambini chirurgici del burlo ONLUS. Le adesioni a Offri un caffè buonissimo sono ad oggi già oltre 110, ma sono ancora aperte e molti nuovi esercizi si stanno unendo alla causa giorno dopo giorno. La novità è che in realtà stiamo dando davvero la continuità ai progetti, ci sono davvero tante esigenze da parte di questi bambini, in un periodo di pandemia è ancora più difficile riuscire a sostenere per bene le famiglie e anche se tutto il devoluto continuerà a dare sempre supporto all'accoglienza, quindi all'interno delle case, cioè non solo una casa ma davvero un supporto completo che va sotto tutti i punti di vista. Dunque un ritorno atteso quello della campagna ideata dall'associazione assieme a Confcommercio e Fipe Trieste che l'anno scorso la pandemia aveva messo in stand by e che quest'anno riprende per lanciare un segnale di ripresa e uno sguardo di apertura verso il futuro. Tutti i cittadini sono dunque invitati a lasciare in dono il valore di un caffè per sostenere i progetti di ABC, ad accogliere le donazioni, le cassettine in legno riconoscibili dalla ben nota immagine della campagna, ospitate negli esercizi pubblici e commerciali che aderiscono all'iniziativa, un'azione piccola per un risultato grande e duraturo che crea valore sociale e rinsalda la coesione di una comunità. Siamo onorati e particolarmente grati non solo a Confcommercio, a Fipe ma a tutta la cittadinanza triestina che con grande cuore e partecipazione davvero si unisce. In un momento come questo dove siamo comunque divisi davvero risentire questo calore, questa solidarietà da parte di tutti è una cosa, è il calore ritrovato e questo davvero, anche questo dà molto. Esercenti, imprenditori, negozianti che volessero aderirvi possono ancora farlo scrivendo a Fipe Trieste. La campagna proseguirà fino ai primi mesi del 2022.